Buongiorno a tutti, adesso parliamo delle matrici quadrate e abbiamo detto che volevamo fare gli esercizi numero 1 e numero 2 in cui volevamo disegnare sullo schermo gli elementi principali con la diagonale principale uguale a 1 e poi il secondo esercizio con la diagonale secondaria uguale a 1 Andiamo a vedere il primo esercizio Il primo esercizio con la diagonale principale uguale a 1 Cosa significa? Che vogliamo disegnare sullo schermo questo Questi 1 messi in diagonale Ora, questa celletta ha i uguale a 0 e j uguale a 0 Quest'altra celletta invece ha i uguale a 1, j uguale a 1 questa j uguale a 2, j uguale a 2 e così via fino ad arrivare a i uguale a n-1, j uguale a n-1 Invece, tutte le altre cellette che in questo momento, in questo disegno, sono vuote sono vuote, hanno gli ittici i e j diversi Come facciamo a scrivere questo in un programma in DPC? Andiamo a prendere l'esercizio Allora, se i uguale a j, cioè se sono nella diagonale principale riempio l'array con il numero 1 Se invece non sono nella diagonale principale, quindi else significa che non sono nella diagonale principale allora riempio l'array con il numero 0 Quindi, se più lo chiamo, includiamo le due librerie ad esempio stdo.h e cone.h definiamo la matrice di tipo intero con 10 elementi quindi array 10x10 dovrebbe essere matrice comunque fa niente i per j e inoltre il ciclo for concatenato lo dobbiamo far partire da i che va a 0 fino a i minore di 10 qui non ci vuole l'uguale perché se io mettessi qua l'uguale avrei 11 cellette quindi per i che va da 0 e i minore di 10 stessa cosa per j che va da 0 e j minore di 10 quindi vedete che è molto semplice quindi questi due primi cicli for sono per riempire la matrice adesso invece io lo voglio disegnare come faccio a disegnare? devo fare altri due cicli for concatenati dove questo chiude il ciclo for della j questa varianzigrafe chiude il ciclo for della i e poi metto getch perché voglio fermare la piediata e questa invece chiude il main vedete? per poterlo stampare devo mettere percentuale 4d perché metto percentuale 4d? perché ogni numero, ad esempio il numero 1 lo voglio distanziare dal successivo di 4 cellette vediamo se funziona vedete io ho disegnato il numero 1 nella diagonale principale quando gli indici erano uguali quindi se gli indici sono uguali ho messo il numero 1 quindi qua abbiamo l'indice 0,0 qui abbiamo l'indice 1,1 abbiamo l'indice 2,2 così via indice n, meno 1 adesso però vi avevo detto anche che io volevo riempire o con il numero 1 oppure con l'asterisco come faccio a fare quello con l'asterisco? quindi il programma è uguale solo che anziché mettere l'1 devo mettere l'asterisco andiamo a vedere quindi supponiamo di mettere il carattere asterisco per poter disegnare l'asterisco l'array non è più di tipo intero ma è di tipo char adesso anziché disegnare lo 0 voglio disegnare il puntino quindi cosa facciamo? l'asterisco siccome è un char devo mettere tra due apici così il puntino siccome è un char devo mettere tra due apici quando devo andare a stampare invece di mettere percentuale 4D devo mettere percentuale 4C vediamo se funziona quindi vedete ho disegnato l'asterisco in diagonale principale e tutti gli altri io ho disegnato uno se io anziché l'asterisco voglio rimettere un'altra cosa ad esempio vorrei mettere la lettera A e qui invece la lettera A vuole mettere ad esempio la lettera I lo potrei anche fare perché li sto considerando come char vi ho messo la lettera A al centro e la lettera I ritorniamo mettiamo l'asterisco e mettiamo ad esempio anche un carattere vuoto supponiamo di mettere il carattere vuoto vedete ho disegnato solo la diagonale principale quindi se io metto l'asterisco per I uguale J o l'asterisco in tutti gli altri ho messo il carattere vuoto cioè non c'è niente c'è solo la parte principale stessa cosa si può fare con il secondo esercizio solo che in questo caso cosa cambia nel secondo esercizio cambia la diagonale la diagonale non è più per I uguale a J ma per I uguale a 9 meno J andiamo a vedere qui quindi I è uguale a 0 questa celletta invece è J uguale a 9 meno I quindi la celletta 9 qui invece ho I quant'è I uguale a 1 J invece è uguale a 9 meno 1 cioè la riga la celletta 8 quindi 1 8 qui invece avrei I uguale a 2 2 e qui avrei la celletta 9 meno 2 cioè la 7 qui ho I uguale a 3 che avrei J uguale a 9 meno 3 quindi la sesta e così via quindi I uguale a 9 meno J e quanto è vera questa condizione metto l'1 altrimenti metto lo spazio vuoto per la stampa la stessa cosa di prima basta stamparlo quindi vedete ho disegnato soltanto la diagonale secondaria con tutti gli 1 perché qui avevo messo lo spazio vuoto andiamo a vedere questo riconsidero invece l'array di tipo intero e stampo il numero 1 oppure il numero 0 le condizioni sono sempre uguali uguali a 9 meno J e fuori che va da 1 a 10 e così via per la stampa sto stampando invece stiamo attenti qua perché qui non devo stampare come qua devo stampare fuori che va da 1 a 0 e meno di 10 e devo stampare di tipo intero perché ho considerato il riempimento come numero 1 numero 0 vedete questa è la diagonale secondaria in cui ho messo tutti i numeri 1 e qua ho messo il numero 0 andiamo a prendere quello precedente se io invece non voglio mettere il lo spazio vuoto voglio mettere ad esempio il puntino avrei il numero 1 nella diagonale secondaria e il puntino in tutti gli altri vedete il numero 1 nella diagonale secondaria e il puntino in tutti gli altri penso di essere stata chiara ci vediamo la prossima volta arrivederci un po'